Gran premio di Bahrain dove in prima fila ha fatto la sua apparizione in maniera piuttosto paese, quindi visibile, la rossa fiammante che è la Ferrari La Ferrari di Sebastian Vettel che conquista la pole position dinanzi al collega di scuderia Recon Terza posizione per la Mercedes invece di Valtteri Bottas dinanzi al compagno di scuderia Lewis Hamilton che partirà invece dalla nona posizione Quarto ruolo, quarto posto invece nella griglia del Gran Premio in questione per la Red Bull di Ricciardo che precede la Toro Rosso di Gasly e la Haas di Magnussen Dunque questo sarebbe quanto, un GP che si preannuncia davvero avvincente e non poco Grazie, iscriviti, commenta, fammi sapere cosa ne pensi e un salutone al prossimo video